Perché Mirandolina, la protagonista della commedia intitolata La Locandiera, la commedia appunto di Carlo Goldoni, è un personaggio che è rimasto così famoso nella storia del teatro e così difficile da dimenticare nella mente di chi o ha letto il testo o ha visto la rappresentazione teatrale? E' a questa domanda e ad altre che noi cercheremo di rispondere analizzando alcuni passi di questa famosa commedia di Carlo Goldoni. E cominceremo dall'inizio, dalla prima scena del primo atto. La Locandiera vede come personaggi una serie di caratteri, di figure, che era facile trovare a quell'epoca. Tanto a Venezia, la patria di Goldoni, quanto a Firenze, dove è materialmente presente la locanda di Mirandolina, e quindi dove è ambientata la commedia. Ovviamente il personaggio principale, quello intorno a cui ruota tutta la vicenda, è lei, la locandiera, cioè Mirandolina, la proprietaria di questa locanda. Accanto a Mirandolina c'è Fabrizio, cameriere della locanda, suo innamorato e suo futuro sposo. Mirandolina sposerà appunto Fabrizio per una promessa fatta sul letto di morte al padre. Intanto, nel frattempo, nonostante questa promessa, attorno a Mirandolina girano una serie di personaggi. Il Cavaliere di Ripafratta, il misogino della commedia, il Marchese di Forlimpopoli e il Conte d'Alba Fiorita. Questi due personaggi, i protagonisti appunto della prima scena, nel primo atto di questa commedia, l'uno, il Marchese di Forlimpopoli, un nobile spiantato, l'altro, il Conte d'Alba Fiorita, un parvenuto. La scena, come abbiamo detto prima, si rappresenta in Firenze, nella locanda di Mirandolina. Firenze è stata scelta da Goldoni un po' forse per dimostrare che in molte città, e non solo a Venezia, potevamo trovare a quell'epoca i caratteri che Goldoni ha dipinto nella sua commedia. E un po' probabilmente per cautelarsi, viste le accuse che Goldoni lancia in questa commedia, accuse lanciate sempre con il sorriso sulle labbra, stemperate dall'ironia, accuse, dicevo, che Goldoni lancia contro non tanto il Marchese di Forlimpopoli, quanto contro quella classe nobiliare, di cui Goldoni è stato un feroce accusatore, comunque è stato colui il quale ha messo in evidenza i difetti che secondo lui questa classe aveva nel Settecento. E la vicenda si svolge nella locanda di Mirandolina, cioè in un luogo deputato per gli incontri, e quindi un luogo, diciamo, straordinario per quanto riguarda le capacità creative di uno scrittore, perché la locanda, piuttosto che un caffè, piuttosto che un campiello, sono il luogo degli incontri, e quindi quando ci sono gli incontri tra persone è facile costruire tante storie. Prima di andare a leggere la prima scena del primo atto, che è appunto il momento centrale di questa nostra breve video-lezione, cominciamo a analizzare un passo della prefazione scritta da Goldoni a questa commedia. «Fra tutte le commedie da mesi in ora composte, starei per dire essere questa la più morale, la più utile, la più istruttiva». Subito Goldoni mette in chiaro le cose. Questa è una commedia scritta per dimostrare qualcosa, per istruire, per fare cosa utile, ma nello stesso tempo anche non disgiunta dalla morale. Ecco, l'intellettuale dell'illuminismo, quale Goldoni è, a tutti gli effetti, pone come fine della sua opera l'aspetto dell'utilità. Il fatto è che questa sua opera possa essere istruttiva, ma nello stesso tempo anche morale, cioè non dà un insegnamento immorale. E subito si cautela, sembrerà ciò essere un paradosso, cioè mettere insieme morale e utilità. A chi soltanto vorrà fermarsi a considerare il carattere della locandiera e dirà «Anzi, non aver io dipinto oltre a una donna più lusinghiera e più pericolosa di questa». Goldoni sta cercando di prevenire le possibili accuse, perché questa donna, vedremo nello sviluppo della commedia, è sicuramente una donna che utilizza la sua arte femminile per cercare di mandare avanti la locanda. Ed è ovvio che questa affermazione e questo suo modo di fare soprattutto potrebbe aprire il fianco a una serie di contestazioni anche abbastanza forti e quindi a una serie ovviamente di accuse chiaramente misogine. Si può dipingere Mirandolina come una approfittatrice, come una persona ingannatrice degli uomini. e invece Goldoni cercherà di dimostrarlo durante la commedia e ora cercherà naturalmente di preparare il terreno per questa sua dimostrazione, ci dice chiaramente che questa, questa donna, questa locandiera, rappresenta un carattere particolare di donna e soprattutto che dal suo comportamento noi possiamo ricavare una serie di nozioni importanti, utili, istruttive e non immorali. Ma chi rifletterà al carattere e agli avvenimenti del cavaliere, quello di Pafratta, cioè misogino, troverà un esempio vivissimo della presunzione avvidita ed una scuola che insegna a fuggire ai pericoli per non soccombere alle cadute. Ecco, l'aspetto istruttivo, una scuola. Ecco, non si può giudicare Mirandolina così in assoluto, decontestualizzandola dalla locanda e dalla situazione in cui si trova a vivere. Ma, data questa situazione che si è venuta a creare in questa locanda, ebbene, la locandiera diventa una scuola che insegna a fuggire ai pericoli per non soccombere alle cadute. Cioè, da un, non solo, è istruttivo, quindi da un ammonimento che è utile e istruttivo, fa da scuola, ma è anche un ammonimento morale, nel senso che si evita di cadere in situazioni che potrebbero essere, appunto, moralmente pericolose, potrebbero, cioè, portare a commettere degli errori. Invece, quello che deve prevalere è proprio il buonsenso, tipico non soltanto della donna, mirandolina, tipico non soltanto della locandiera, ma del mercante, e quando parlo di mercante non intendo soltanto, appunto, il mercante di mestiere, ma deve essere quell'etica che tutti quanti dobbiamo avere, e cioè quella capacità, quel buonsenso, quella capacità di fuggire ai pericoli, l'accortezza per non soccombere nelle cadute. Cominciamo. Attoprimo, scena prima, sala di locanda, il marchese di Forlimpopoli e il conte di Abba Fiorita. Vedremo subito, appunto, di quali personaggi si tratta. Il marchese. Fra voi e me vi è qualche differenza. Sulla locanda tanto vale il vostro denaro quanto vale il mio, ma se la locandiera usa a me delle distinzioni, mi si convengono più che a voi. Per quale ragione? Io sono il marchese di Forlimpopoli ed io sono il conte d'Alba Fiorita. Sì, conte. Contea comprata. Io ho comprata la contea quando voi avete venduto il marchesato. Oh, basta! Son chi sono e mi si deve portare rispetto. Chi ve lo perde rispetto? Voi siete quello che con troppa libertà parlando. Ci fermiamo qui. Il primo scambio di battute. Che sì, polarizza attorno a due differenti modi di interpretare la nobiltà. Da una parte abbiamo il marchese appunto di Forlimpopoli, il nobile spiantato e vedete come il nobile spiantato punti tutta la sua retorica vuota su concetti che fanno riferimento a differenze di classe, distinzione tra una classe e l'altra, a una sorta di superbia. Io sono il marchese di Forlimpopoli, come se questo nome dovesse aprire immediatamente una serie di strade. e poi addirittura ancora una volta una battuta che poi ritornerà più volte e sono chi sono, ecco, questo trincerarsi di fronte a qualcosa che non ha ormai più nessuna ragione d'essere, si è soltanto se si ha qualcosa, se si dimostra di poter valere qualcosa. E legato a questa battuta c'è la necessità da parte di tutti gli altri, anche il conte di Alba Fiorita, di portare rispetto. Quindi, come vedete, il marchese fa riferimento a concetti di rispettabilità, di distinzione che ormai capiamo essere concetti completamente vuoti, privi, quindi di una base. Dall'altra parte abbiamo il conte d'Alba Fiorita, il parvenu, cioè il nobile che ha comprato il titolo e le parole del conte sono parole diciamo moderne, fanno riferimento a denaro e ripetuto anche nel concetto io ho comprata la contea quando voi avete venduto il marchesato. Questa battuta è doppiamente importante, un po' perché ci dice quanto il conte può e può soltanto perché ha i soldi e quanto invece non può il marchese che non può perché è spiantato non ha i soldi. Ma questa battuta si collega a quella precedente io sono il conte d'Alba Fiorita e la dimostrazione di una nuova nobiltà che non ha remore di confrontarsi con la vecchia che sa che conta più della vecchia perché ha più peso e quando parliamo di peso ha più soldi vogliamo intendere e quindi ovviamente ha quegli strumenti possono permettere di fare questa volta veramente la differenza quindi non più una differenza basata sul nulla su un titolo vuoto ma una differenza basata appunto sul possesso del denaro. Ecco qua le due figure della nobiltà noi abbiamo visto che Goldoni ha avuto un giudizio sempre severo nei confronti della nobiltà che osservava a Venezia ma non dobbiamo pensare come abbiamo già detto in una video lezione a un Goldoni rivoluzionario no non è il Goldoni che anticipa la rivoluzione francese durante la quale tante teste coronate nonne comunque aristocratiche sono cadute no lui vorrebbe appunto che la nobiltà riprendesse quel ruolo importante centrale che ha sempre avuto nei secoli precedenti invece di cadere nel in uno stato parassitario ozioso e vuoto di retorica vuota quindi di fatto il marchese e il conte rappresentano in questo momento per Goldoni due nobiltà interessanti da una parte quella del marchese ovviamente la nobiltà che si scontrerà di lì a qualche decennio con un mondo che cambierà alla velocità della luce faccio riferimento naturalmente alla rivoluzione francese e dall'altra invece un altro tipo di nobiltà incarnata dal conte probabilmente anche comprata ma comunque una nobiltà che ha molte delle caratteristiche tipiche del mercante e infatti tanto il conte quanto il normale mercante hanno in comune appunto questa parola del denaro più volte ripetuta e anche una sorta ovviamente di coscienza di classe se così possiamo usare questo termine non nell'interpretazione che poi verrà data questa questa frase ma nel senso di un conte che sa perfettamente che è quel tipo di nobiltà che prenderà il posto e soppianterà la nobiltà vuota del marchese di Forlimpopoli io sono in questa locanda perché amo la locandiera tutti lo sanno e tutti devono rispettare una giovane che piace a me oh questa è bella voi mi vorreste impedire che io amassi Mirandolina perché credete che io sia in Firenze perché credete che io sia in questa locanda oh bene voi non farete niente io no e voi sì io sì e voi no io son chi sono Mirandolina ha bisogno della mia protezione Mirandolina ha bisogno i denari e non di protezione denari non ne mancano io spendo uno zecchino il giorno signor marchese e la regalo continuamente ed io quel che fonno lo dico voi non lo dite ma già si sa non si sa tutto sì caro signor marchese si sa i cameriri lo dicono tre paoletti il giorno è molto interessante questo scambio di battute innanzitutto il partiamo da una premessa marchese marchese e conte discutono di di Mirandolina quindi Mirandolina in questo momento comincia ad apparire anche se non c'è anche se tra poco entrerà in scena ma di fatto il marchese e il conte l'hanno evocata i due personaggi si trovano qui per lei e anche in questa situazione noi notiamo quello che abbiamo visto prima questa forte contrapposizione da una parte il marchese quasi a dire insomma Mirandolina piace a me quindi basta bisogna riportarle rispetto perché piace a me via sciò tutti gli altri non possono e non devono fare niente e lo dice con l'alteriggia della nobiltà voi non farete niente basta e poi la ripetizione io son chi sono io son chi sono no? questa frase retoricamente è costruita che forse in altri tempi avrebbe fatto la fortuna di questo marchese soprattutto io so che Mirandolina ha bisogno della mia protezione ma quale protezione può dare un marchese spiantato a una donna che gestisce una locanda semmai una donna che gestisce una locanda ha bisogno i denari non ha bisogno di protezione quella riuscirà a ottenerla da sola e lo vedremo successivamente dall'altra parte il conte il conte che appunto continua in quel battibecco con il marchese non accetta più l'idea che il marchese solo in quanto marchese può dire qualcosa e può impedire agli altri di provare gli stessi sentimenti e quindi gli risponde dice marchese lei è qui per Mirandolina e sono pure io qui per Mirandolina stop il marchese si risente voi non farete niente e allora c'è uno scambio abbastanza forte tra i due ma quello che è importante di questo passaggio sono i denari è lì che il conte ha davvero ragione e soprattutto è lì che il conte dimostra tutto il suo essere un personaggio moderno sono i denari l'abbiamo visto anche nella precedente sequenza e lo vediamo ancora ora il conte che rimarca sempre il discorso economico sono i denari e rimarca quella differenza vi ricordate che il marchese voleva tra lui e gli altri fondata su non si capisce bene che cosa il conte invece lo sa pretende che ci sia sì differenza tra appunto il conte stesso e il marchese ma non la differenza che vuole il marchese cioè il marchese in una posizione più elevata rispetto al conte semmai il contrario il conte in una posizione più elevata rispetto al marchese e in una posizione più elevata non perché può dare a Birandorina la protezione non perché il conte dice io son chi sono ma in una posizione più elevata perché il conte spende uno zecchino al giorno signor marchese e la regalo uso transitivo del verbo e quindi regalo la sommergo ogni giorno di regali quindi il denaro che diventa il motore dell'azione e probabilmente anche dei sentimenti a proposito di camerieri vi è quel cameriere che a nome Fabrizio mi piace poco parmi che la locandiera lo guardi assai di buon occhio può essere che lo voglia sposare non sarebbe cosa malfatta sono sei mesi che è morto il di lei padre sola una giovane alla testa di una locanda si troverà imbrogliata per me se si marita le ho promesso 300 scudi se si mariterà io sono il suo protettore e farò io e so io quello che farò venite qui facciamola da buoni amici diamo le 300 scudi per uno quel che io faccio lo faccio segretamente e non me ne vanto son chi sono chi è là spiantato povero e superbo ci avviamo alla conclusione della prima scena e anche in questa conclusione le due figure di nobili si contrappongono innanzitutto è da fare una breve premessa nel senso che questi due personaggi discutono di una donna dell'amore di una donna e soprattutto discutono di un terzo Fabrizio che non sarebbe il terzo della loro situazione ma sarebbe il primo cioè quello che poi sarà il futuro lo sposo di Mirandolina quindi già c'è un atteggiamento un po' arrogante nel dover quasi considerare Mirandolina una cosa personale privata e quindi nel decidere quali possono essere le frequentazioni di questa Mirandolina ma se il Marchese insomma mostra questo atteggiamento il conte non è da meno c'è questa sua frase che ci lascia un po' interdetti per me se si marita le ho promesso 300 scudi il che vuol dire che non è che per me se si marita io non gli darò più fastidio non la importunerò non le farò più la corte no è come se fosse ovvio naturale scontato che dopo il suo matrimonio il matrimonio cioè di Mirandolina ancorché con Fabrizio il conte possa in qualche modo presumere di avere ancora riguardi ancora regali e ancora una sorta di volontà di essere l'innamorato di Mirandolina e probabilmente insomma volontà il desiderio di possedere Mirandolina cioè come in che in questa società del Settecento che ha sdoganato appunto il cicisbeo l'accompagnatore ufficiale della donna che il marito della donna non era insomma naturalmente come se questa società dovesse valutare tutto solo sotto forma di di denari io le do le ho promesso trecento scudi non c'è quindi nel conte quella mentalità di chi dice ok ha scelto un altro va benissimo faccio due passi indietro non c'è neppure nella mentalità del marchese ma mentre il marchese vuole in qualche modo farlo fuori addirittura cioè nel senso che vorrebbe quasi impedire questo possibile matrimonio tra Fabrizio e Mirandolina nel senso che ormai Mirandolina nell'ottica del marchese è sotto la sua protezione per cui nessuno neppure Fabrizio può permettersi di guardarla dall'altra parte il conte si spinge addirittura un po' oltre si vogliono sposare si sposino pure a me non interessa granché io continuerò a fare la corte a Mirandolina quindi è un atteggiamento che anche di una nobiltà moderna lascia alquanto interdetti e il marchese a questa promessa ai 300 oscuri fatta a Mirandolina risponde a luogo a tempo se si mariterà io sarò il suo protettore protettore ma di che cosa cosa vuole proteggere una donna che gestisce una locanda come abbiamo detto prima non ha bisogno di un protettore come la intende il marchese ed ecco il conte che vuole portarla sempre sull'aspetto economico è una sfida che il conte lancia al marchese dai finiamola qui da amici dai diamole 300 scudi per uno ma sa il conte che il marchese i 300 scudi non ce li ha per darli a Mirandolina ed ecco che il marchese fa finta di non sentire chi è là dopo aver risposto con la solita frase sono chi sono e poi svia il discorso e il commento appunto del conte il commento che anche i goldoni fa in questo periodo sulla nobiltà spiantata è superba grazie a tutti